Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico. Fino alle 18 di oggi è chiusa l'uscita di Rioveggio per lavori. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. A causa di due frane chiusi i tratti sulla statale 12 della Betone e del Brennero, in località Borgo Ammozzano, e sulla statale 64 Porrettana tra Pavana e Ponte della Venturina. I treni, ricordiamo che fino alle 17 di oggi è stato proclamato uno sciopero che interesserà il personale del gruppo Ferrovia dello Stato, potranno registrarsi ritardi, cancellazioni o variazioni. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Grazie.